Hai un progetto importante e vuoi realizzare una serie di brani, un album, un bel tour o un grande evento di lancio per il tuo disco ma non sai assolutamente da dove cominciare? Ecco, il crowdfunding potrebbe essere il modo giusto per raggiungere il tuo obiettivo. Crowdfunding, letteralmente crowd, pubblico, funding, fondi o finanziamenti, quindi finanziamenti dal pubblico. Ovvero che i tuoi fan ti sostengono attraverso una campagna di questo tipo mentre stai realizzando il tuo prodotto, mentre stai realizzando concretamente la tua musica. Chi acquista preordine al disco o altri gadget interessanti ti consente di coprire le spese di cui altrimenti dovresti farti carico e se sei bravo anche di guadagnare fin da subito con la tua musica. Prima di entrare nel dettaglio di tutte le fasi per affrontare un progetto di questo tipo, ti dico fin da subito i tre motivi per cui vale la pena mettere in campo il crowdfunding per la tua musica. Il primo, crei attesa, crei curiosità. Le persone seguono questo progetto fin dalla sua ideazione, vedono realizzarsi passo dopo passo, seguono quello che fai, sono con te che ti sostengono e non vedono l'ora che tu raggiunga l'obiettivo. Quando il processo è completato, sono i primi che vogliono sentire questo disco e non vedono l'ora di farlo. Due, hai già i primi acquirenti della tua musica. Non fai uscire un disco e poi pensi a chi potrebbe interessare, perché in questo modo quando il disco è pronto ed esce effettivamente ci sono già i primi acquirenti, sono quelli che l'hanno acquistato durante la tua campagna. Quindi ci sono già le prime persone che hanno il tuo disco e che possono spargere la voce. Terzo, che è il motivo forse più importante, crei un tuo pubblico per la tua musica. Chi ti segue e realizza con te questa campagna di successo, sono poi i tuoi primi fan che potrai portarti dietro ovunque, ma anche nei prossimi progetti discografici futuri. Segui questi video per tutti i dettagli per creare una campagna di crowdfunding di successo.